Voci da Sanremo in collaborazione con Sweet John Irene Grandi, come stai Irene? Bene Benone Senti allora Irene, sei ritornata sul palco dell'Ariston Io non so però, stamattina cantavo Sposami subito Sono passati di anni Memoria te Senti, si è passato un po' di tempo Il mio primo Sanremo era il 94 Quindi sono davvero 21 anni C'ho la maggiore età per il festival di Sanremo Quindi si può dire che Insomma era l'ora di tornare Nella maggiore età con una canzone più matura C'eri già stata con la Comelta di Alleyne E' ancora primo con la tua ragazza sempre Poi ci sono stati anche tanti riconoscimenti anche all'estero Perché hai avuto questa voglia di tornare? Al di là del fatto che questo è un festival Molto Carlo Conti e anche molto toscano Siete in tanti a rappresentare la terra di Conte Quanti scusa? Allora tu, Biggio e Mandelli Marco Masini I Giotti tra i giovani Che altro c'è di Fiorentino? Aiutate Una rosa di 5 c'è Molto bene Finalmente Firenze si rifà valere No perché ovviamente so di Marco Masini Comunque sì Probabilmente E' un po' un momento fortunato per la nostra città Però ecco Che cosa era la domanda? Raccontavamo la tua presenza al festival No scusate La mia presenza al festival Sì sono molto contenta quest'anno Perché sono anche autrice di questo brano Quindi appunto in questo senso ti parlavo anche di maturazione artistica Con una canzone che è un po' diversa anche dalle mie precedenti Perché come dire al festival sono sempre venuta con canzoni un po' Su rock Senz'altro che si staccavano diciamo Dalla ballad classica Dalla classica ballad di Sanremese Devo dire che sentendo gli altri colleghi Si stacca lo stesso la mia ballad Perché effettivamente è un po' una canzone in cui Io dico questo testo con una grande emozione Perché mi emoziona veramente E non canto diciamo Usando tutti i mezzi vocali Diciamo per cantare o gridare una qualche verità Ma proprio voglio raccontare una storia Con molta tranquillità E questa storia Secondo me è una storia importante Il Contemporaneal Festival di Sanremo Hai scelto un nuovo lavoro Un grande progetto Un album nuovo Che uscirà domani Domani Sono molto orgogliosa di questo album Che ho realizzato con Saverio Lanza Che sarà anche il direttore d'orchestra Stasera per la mia canzone E è stato il produttore e coautore Di questo album Nella gran parte dei pezzi Quindi diciamo che Si è ricreata un po' come all'inizio Che ritornando un po' Come dicevi tu Agli albori Diciamo della mia storia musicale Con Telonio Che sarà creata questa bella Connubio proprio tra Un più musicista e una più cantante Però con tutte e due Una personalità forte E complementare Ho trovato proprio in questa coppia musicale Una grande affinità Perché lui ha saputo valorizzare I miei spunti melodici e di testo E così mi ha proprio permesso di Raccontarmi e far uscire il meglio di me Secondo me la mia creatività La mia voce più calda E lui ha collaborato anche con degli arrangiamenti Che lasciano molto spazio Al mio timbro Alla mio modo di cantare Per quanto riguarda la serata Delle cover di giovedì Ho scelto una canzone di Patti Pravo Se perdo te La grande Patti Pravo Un'altra donna con grande forza Personalità Un po' trasgressiva Ma anche appunto che Raccontava anche sempre temi un po' diversi Dal solito E ho scelto se perdo te Mi piaceva molto questa melodia Anche un po' a tema Molto anni 60 Abbiamo mantenuto un arrangiamento Anni 60 Però l'abbiamo trasformata in qualcosa di un po' più leggero Di un po' più rock Anche volendo un po' più estivo Non so C'ha qualcosa di veramente solare La nostra versione Beh io non posso Perché ti intervistai anche ai tempi del tuo disco Parlare con te di Pino Daniele Che ieri sera Alessandro Siani ha omaggiato Con questa Hanno spento le luci Ed è stato molto bello Il tuo rapporto con Pino e come lo ricordi? Eh ricordo dei bellissimi momenti Una grande generosità da parte sua Per avermi permesso di entrare un po' nella sua vita artistica E anche personale Perché insomma ci siamo visti svariate volte Anche a casa sua Con i suoi familiari O comunque anche nel locale che aveva fatto in Toscana Anche lui un grande amante della Toscana E mi piaceva proprio questo suo modo di essere musicista E papà Insomma Molto Con grande forza In entrambi i ruoli Era veramente Una persona Come dire presente Insomma lo ricordo Cioè ci spiace un po' sentire adesso i suoi pezzi Perché insomma lo preferivamo in mezzo a noi Senti partirà anche un tour subito dopo Pensiamo già all'estate? Ancora prima Pensiamo a maggio Perché abbiamo iniziato Già un po' di tempo fa Preparare questa tournée in teatro Mi piacerebbe tornare Proprio perché questo disco ha un po' un sapore Un po' più cantautoriale Con canzoni proprio da ascoltare Anche le parole molto belle Piene di belle immagini Ho anche collaborato con Cristina Donà In questo album Che è una musicista e paroliera Secondo me eccellente E Marco Parente Che invece è un altro fiorentino Che anche io ho ritrovato un po' Devo dire il rapporto con la mia città In questo momento di pausa Di questi cinque anni E un mondo appunto Anche Saverio Lanza di Firenze Anche i musicisti che hanno suonato nel disco E anche Marco Parente Un cantautore apprezzato nella scena underground Che mi ha scritto un bellissimo brano Luna Bianca E devo dire che Sì Sono proprio contenta E sono curiosa di cosa penserete di questo mio nuovo disco In bocca al lupo Irene Viva il lupo Ciao